Buongiorno cari amici, mi chiamo Adi Lilian, da un po' di anni vivo ad Asti e in questi anni ho imparato a conoscere e amare questa città che ormai considero la mia, la mia città dove spero di realizzarmi, di stabilire una vita come lavoro, amici, famiglia. Per questo vorrei anch'io fare qualcosa per Asti, per dare il mio contributo al suo sviluppo. Credo che ci siano molti modi per farlo, uno di questi modi, specie oggi, che ci sono tante stranieri è quello di favorire una conoscenza reciproca e alla fine ci fanno capire che alla base di tutto ci siano gli stessi sentimenti, stesse paure e le stesse speranze. Io personalmente vorrei contribuire a questo disegno dando vita a un gruppo, un'associazione culturale composta da astigiani e stranieri. Man mano inizi a aiutare l'amministrazione a affrontare i problemi che si presentano negli interessi della città e di tutti. Questo è che vorrei fare per Asti e in ultimo ringrazio il Movimento Civico Calvano per la sua disponibilità. Grazie. 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 Grazie.